oggi siamo qua per provare dei nuovissimi correttori i correttori in questione sono questi qui faules cover io non l'ho mai visti quindi presumo che siano nuovi l'ho preso uno chiarissimo per illuminare uno beige per l'occhiaio e l'altro scuro per il contouring però prima dei correttori vado ad usare questo premio qua che mi sono trovata molto bene effetto gelato ti fa la pelle veramente bellissima ed è fatto così questo qua però non è di primark mi è stato inviato andiamo a geladarci guarda che meraviglia azzurrino madonna non ho capito bene come funziona ti dico la verità sulla pelle rimane molto 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 azzurro però poi ovviamente tu lo misceli e va via l'azzurra vabbè senti qua mentre che mi spalmo questa cosa in faccia diventa pure bella calda quando te la spalmi addosso vabbè comunque comunque rimaniamo fra di noi che cazzo mi racconti della tua vita squallida passiamo il tempo no che mi racconti che mi dici tutto bene io sì ogni giorno più scatapasciata sì 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 come mai non si spalma hai visto che bella sembra un po' maruzella di rete 4 però sì 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 mi piace l'effetto mi piace penso che ci siamo avvicinati iniziamo comparto con questo qua becciolino per contrastare le occhiaie no cover faules dovrebbe essere faules però comunque non è tanto beige è molto molto chiaro sta cosa madonna è bianco no non ce la faccio più no non ce la faccio più yes madonna hai visto come spinge questo è la zona in cui di solito io metto il correttore più scuro no poi vado ad usare quello illuminante scusa se questo era bianco quest'altro come cazzo sarà madonna vabbè vabbè comunque di solito questi qua bianchi bianchi così per illuminare li metto in queste zone no poi andiamo infine con quello più scuro per fare il contour scuro e arancione ecco qua chiaramente non vado a mettere il fondotinta perché io voglio vedere veramente la coprenza di questi correttori faules madonna si è asciugato si asciuga subito sono rimasto agchiazzata no dai no però non avvisano neanche almeno avvisami che ti che ti secchi è secco sulla pelle mi sta mummiando una mummia una catacomba no ragazzi figli miei no vediamo nelle occhiaia oh no 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 guarda qua va non si spalma più è troppo dura no così è troppo così eccessivo però così è troppo di marmo no io lo preparisco più in molliccia no no mi dispiace no oh a macca ora si che sembra una vacca cento per cento non so se il problema è mio perché l'ho lasciato in posa ma qua cazzata no boccia e dai fatti il conto 4 euro 4 euro 4 euro 30 euro sono partiti no sto portando tutto ok no